Operazione dei carabinieri di Lazzise che hanno denunciato a sette ragazzi tedeschi in vacanza sul lago di Garda. I giovani hanno trascorso una nottata nella quale hanno demolito il plateatico di un locale a Pacengo, oltre, secondo l'accusa, a rubare e danneggiare insegne e cartelli stradali. A denunciare gli episodi è stato il titolare del locale. Gli uomini dell'arma hanno seguito le tracce lasciate dai giovani e in breve tempo li hanno individuati. Dormivano all'interno di una roulotte ed erano visibilmente in preda all'alcol. Da una prima stima hanno provocato migliaia di euro al locale di danni. Inoltre hanno distrutto la roulotte dove dormivano e sono stati cacciati dalla proprietà del campeggio.